Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, come dal titolo, farò un riassunto sul moto armonico. Fatemi sapere dai commenti se vi piacciono queste tipologie di video, quindi continuare con un riassunto sulla dinamica, energie, eccetera, eccetera. Insomma, tutti gli argomenti, non solo di fisica, ma anche matematica e perché no, se riesco, anche chimica. Questi rassunti sono a livello universitario, ma anche per le scuole superiori, soprattutto per maturità e preparazione del test di ammissione. Va bene, allora, iniziamo a parlare del moto armonico, moto rettilineo con spostamento sinusoidale. Quindi diciamo che il moto che si ha la rappresentazione in un piano XT sarà di questo tipo, ok? Quindi moto puramente rettilineo, ma con spostamento lungo una sinusoide o comunque una funzione periodica. Anzi, facciamo così, lo teniamo. Ok, l'equazione del moto qual è? X uguale a X di T uguale ad A seno di omega T più fi. Indichiamo quindi le grandezze fisiche. A viene chiamata la ampiezza, cosa dell'onda. Allora, qua facendo un grafico molto più preciso, se qua avessi la mia sinusoide, ok? L'ampiezza è proprio questa, cioè la distanza fra lo zero e il punto più in alto, oppure il punto più in basso. Il punto più alto viene chiamato cresta e il punto più basso, ovviamente, dell'onda, dell'onda che viene rappresentato, viene chiamato ventre. Ok, quindi cresta, ventre, questa è l'ampiezza. Seno, ovviamente, cos'è? È la funzione trigonometrica a cui noi associamo lo spostamento del corpo. Omega viene chiamata pulsazione, anche se in effetti ha tutta la formula della velocità angolare. Però, in termini tecnici, questa è la pulsazione, T è il tempo e fi è la fase. Mi raccomando, fase iniziale, perché in termini puramente matematici o fisici, tutto questo è una fase che viene indicato con fi maiuscolo, ok? Quindi, fi minuscolo è la fase iniziale, fi maiuscolo, anche scritto così, è proprio la fase. Ok, quindi, noi sappiamo che la pulsazione, quindi che le indichiamo ωp, l'ampiezza e la fase iniziale sono delle costanti. Ovviamente, prendiamo T con 0 pari a 0 e con, se noi diciamo che A è uguale a 1 e la fase iniziale è uguale a 0, abbiamo un'equazione dell'onda del tipo x di T uguale a seno di ωp, ok? Classica equazione per rappresentare il moto armonico. La traiettoria, ricordiamoci, è rettilinea e, infine, che il seno di ωp è compreso tra meno 1 e 1, questo per matematica, e x di T, di conseguenza, è compreso tra meno A e A. Perfetto, quindi, adesso noi abbiamo l'equazione del moto, la riscriviamo, quindi x di T uguale ad A seno di ωp più fi, ok? Poi diciamo da dove esce questa formula, il perché. Questa, cos'è? È una, questa ovviamente è una funzione periodica con periodo 2π, il moto armonico quindi è un moto di tipo periodico, cioè il movimento si ripete ogni periodo T. Ricordiamoci che il periodo T è il tempo impiegato per compiere un giro completo, ok? Allora, infatti da questo, allora, se uno decidesse di dire che il tempo 2 meno il tempo 1 è effettivamente il periodo, quindi la differenza di 2π, e scrivendo che x di T1 è uguale a x di T2, fatelo pure perché questo è un video riassunto, non sta a fare tutti i calcoli, esce effettivamente come la pulsazione viene scritta come 2π fratto T, ok? Questo è molto importante, da cui noi sappiamo che la frequenza n è 1 fratto T, come nel moto circolare, e la frequenza, e la, scusate, e quindi anche la pulsazione viene scritta come 2π N, frequenza. Ora, ovviamente, x di T è lo spostamento. Noi sappiamo, tramite le nozioni base della cinematica, che la velocità viene messa come d di x su d di T. Allora, se noi andassimo effettivamente a fare la derivata di questa soluzione, di questa equazione del moto, v, che dipende ovviamente dal tempo, è a ωp coseno di ωpt più fi, che per i ragazzi superiori questa viene imparata, diciamo, a memoria. Invece c'è il suo perché, cioè proprio la derivata. E facendo ancora una volta la derivata della velocità rispetto al tempo, si ottiene un'accelerazione, un'accelerazione che dipende anch'essa dal tempo, e sarà meno a ω quadro seno di ωt più fi. Attenzione, notiamo che possiamo scrivere questa parte qua come effettivamente x di T. Quindi sostituendo, ve lo riscrivo di nuovo qua, a di T può essere scritta come meno ω al quadrato di x di T. Questo è un altro modo effettivamente per scrivere. E cosa andiamo a vedere? Che le curve x di T, v di T e a di T sono sfasate, hanno annanamento sfasato tra di loro. Quindi se ad esempio, adesso lo faccio in modo molto qualitativo, questa è la rappresentazione di x di T. Ovviamente tutte le linee orizzontali, l'ascissa e il tempo. E qua andassi a scrivere v di T, dalla forma che ha, partendo dal seno, insomma ha questi andamenti. Adesso, scusate, facciamo così. E così via. Cioè, laddove c'è lo zero, laddove c'è il valore minimo massimo, coincide con lo zero e viceversa. E poi noi avremmo anche l'accelerazione. L'accelerazione è invece tutto il contrario. Quindi questo corrisponde con meno, no? E così via. Una roba di questo tipo. Notiamo effettivamente come sono sfasate tra di loro, quindi la v di T è sfasata rispetto alle x di T di pi greco mezzi e l'accelerazione è sfasata di pi greco, quindi se questa, mi raccomando, è a di T, è sfasata di pi greco rispetto alla posizione, al moto. Ecco. Allora, per calcolarci anche un po' il tutto, noi possiamo dire effettivamente che se noi facessimo, considerassimo, la posizione iniziale è uguale ad A seno di fi, se andassimo a sostituire T con zero, e V con zero sarà uguale a omega coseno di fi. Se noi andassimo a fare il rapporto tra di essi, otteniamo 1 fratto omega e la tangente di chi di fi, da cui noi diciamo che fi è uguale all'arco tangente di chi? Di omega di omega P di x con zero fratto v con zero. Ok? Per ricavare A, come facciamo? Perché dobbiamo ricavare un po' il tutto. Per ricavare A, diciamo che effettivamente il seno al quadrato di un angolo alfa più il coseno al quadrato di un altro angolo, del sempre dell'angolo alfa, è uguale a 1, quindi facciamo x con zero al quadrato fratto A quadro più V con zero quadro fratto A quadro omega quadro che è uguale a 1, da cui noi possiamo dire che A quadro è uguale ad x con zero quadro più V con zero quadro fratto omega quadro. Ora, da dove esce magicamente la formula iniziale del moto armonico? Nasce da una condizione, o meglio da uno studio, che poi successivamente farò dinamico di, ad esempio, il corpo elastico, la forza elastica o di un pendolo, ad esempio. Comunque, condizione sufficiente e necessaria affinché x di t descriva il moto è questa, cioè la derivata seconda di x che dipende da t, quindi derivata seconda rispetto al tempo più omega quadro x di t è uguale a zero. Questa sostituisce, questa è un'equazione differenziale del moto armonico e sono le soluzioni in campo reale e funzioni seno e coseno. Quindi, effettivamente, se noi avessimo derivata, nel caso puramente generale, derivata seconda di una funzione z fratto i di z quadro più k costante al quadrato per la funzione z uguale a zero, questa restituisce una funzione come soluzione f di z che è uguale a seno di kz più fi. Ok? Quindi, effettivamente, poi ecco da lì che nasce il tutto. Il come vedremo sarà un'approssimazione anche dei piccoli angoli, eccetera, eccetera, eccetera. Per qualsiasi dubbio o qualsiasi curiosità fatelo pure sapere nei commenti. Grazie a tutti.